Giorni decisivi per il futuro del punto nascite del Santimotio di Termoli. In questi giorni si è tenuta l'udienza di merito al Tarmolise sul ricorso presentato dal Comitato Voglio Nascere a Termoli, costituitosi dopo la decisione da parte del Commissario Giustini e dell'ASREM di chiudere il reparto. Ad oggi vige ancora la sospensiva del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello dei Commissari alla Sanità dell'ASREM e della Regione permettendo la prosecuzione delle prestazioni all'interno dell'ospedale termolese. Adesso si attende il deposito della sentenza che arriverà entro 30 giorni a difendere le ragioni del Comitato, gli avvocati Vincenzo Fiorilli e Laura Vennitelli, la quale è tornata a spiegare le ragioni del ricorso. Ci siamo battuti sostenendo una cosa, sostenendo che togli il punto nascita di Termoli, se togli quello non sappiamo dove poter veicolare quelle che sono le nostre donne e soprattutto dove poterle indirizzare nella fase critica che può avere una donna in gravidanza. L'ASREM e il Commissario Giustini in questo momento nel caso del punto nascita di Termoli sono andati da modo d'accordo e a parcetto, sostenendo che il punto nascita deve essere chiuso e sostenendolo anche nel nuovo piano operativo sanitario, tant'è che la difesa dell'ASREM e del Commissario sono che nel nuovo piano operativo sanitario il punto nascita non c'è. E da qui queste dichiarazioni, questa presa di posizione, aprono il fronte ad una nuova battaglia che il territorio deve fare per garantirsi questo presidio, che è un presidio di salute. Per la Venitelli, la proposta di far partorire le mamme termolesi a chieti, scalo, è pura follia e va in contrasto con il diritto alla salute garantito dalla legge, così come è risultato inadeguato comparare il punto nascita di Termoli con quello di Isernia. Scelte scellerate, spiega Venitelli, e che potrebbero arrivare anche sul testo del piano operativo sanitario. Proprio per questo si sta pensando anche di diffidare il Ministero delle Economie e le Finanze insieme al Commissario Giustini e l'ASREM. Ho in mente di diffidarli ad evitare di proseguire nel cammino della chiusura del punto nascita. La diffida è prodromica a eventuali azioni giudiziarie di impugnazione del piano operativo sanitario, qualora non lo dovessero insistere. Ma è anche prodromica d'azione di responsabilità personale nei confronti di chi metterà in campo un'iniziativa del genere.